Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a questa nuova video, ma lì che c'è te lo vai via Eee, bella a tutti ragazzi, coeri che chi vi parla Ragazzi, prima di iniziare, comunque come hanno già dato molti altri youtuber e molte altre Influencer di qualsiasi tipo, di qualsiasi social, cercate di rimanere a casa Ragazzi, ve lo dico francamente, veramente preferisco rimanere a casa, giocare tutto il giorno, giocare per tutto il mese Che uscire di casa e beccarmi con la schifezza che c'è in giro ora Quindi mi raccomando ragazzi, cercate di rispettare le regole che comunque hanno imposto persone più in alto di noi Così che comunque la situazione si risolva al più presto Quindi raga, restate a casa, giocate a Fortnite, fate quello che volete E ragazzi, dopo questa comunque, diciamo, richiesta molto drammatica Che purtroppo affligge tutta l'Italia, se non tutto il mondo Ragazzi, oggi siamo qui per mostrarvi nuove armi legacy moddate Infatti raga, oggi veramente sono molto positivo Molto positivo perché... No, in realtà no, però vabbè Oggi siamo qui per mostrarvi nuovissime armi Abbiamo rivolte fondatore Come da titolo e da copertina avrete visto Oh, rivolte fondatore Abbiamo un sacco di rivolte Sono tutte quelle che volevo mostrarvi Sono tutte queste In totale sono una... Circa circa sono dodici Quindi mi raccomando raga Godetevi il video Adesso comunque tutte le rivolte che ci sono nel video Ora ve le farò vedere Andando in missione Ho risolto il problema Quindi ora vedrete tranquillamente il game E il video senza che comunque laghi la visuale E niente raga Ci vediamo direttamente in missione Dove andremo a provare tutte queste nuovissime rivolte fondatore Legacy moddate e bugate Ed eccoci raga Prima non l'ho ricordato però Se volete supportare il canale Lasciate un bel like e iscrizione a questo comunque video E stasera saremo in live Solito per le 8 precise Fino alle 22 e passa ragazzi Stiamo veramente salendo in modo assurdo Più saliamo più i tempi comunque di live Saranno maggiori anche con questa situazione Penso che si possano fare live molto più lunghe Ragazzi ora torniamo al video Le armi Legacy moddate e bugate Tipologia rivolta fondatore Ne ho veramente tante Tra cui anche una senza livello Io direi proprio di partire da lei Questa è rivolta al 15 Normalissima rivolta fondatore Se non che la cosa più che altro Che è strana E che è senza livello esattamente Guardando una scheda tecnica normale di un'arma Come vedete c'è scritto livello 40 In questo caso non ha proprio livello Dovrebbe essere livello 1 E non dovrebbe essere così Ovviamente spara fisico Non avendo un elemento Non avendo i perk Se la vostra comunque domanda è Ma è venuta da Stormchest Non è venuta da Stormchest Anzi Se quando comprate comunque il pacchetto fondatore Non la riciclate Vi rimane comunque nell'inventario Vi danno insieme all'arma anche il progetto Però una è un'arma così E uno è il progetto vero e proprio Però alcune persone Se non tutte La maggior parte delle persone Perché molte ce n'è in giro di queste qua Però la maggior parte delle persone L'ha buttata via Pensando che comunque non valeva nulla Ma hanno ragione Non vale proprio niente Massimo massimo 100 di raggio 150 È solo un'arma particolare Come altre senza livello Anzi ce n'è di senza livello Che valgono anche migliaia di raggio Se poi volete un video a parte Dove vi mostro tutte 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 Le mie armi senza livello Basta chiedere sotto nei commenti Vedete Spara fisico Non è nulla comunque di particolare Però è giusto da tenere da collezione Come in questo caso Prossima arma raga Anzi prossime quattro armi Abbiamo una serie di armi Che sono tutte uguali Stiamo parlando di rivolta a fondatore Doppio elemento La prima che vi voglio mostrare Natura natura Poi abbiamo Natura energia E abbiamo natura fisico E non solo Abbiamo anche natura acqua Però partiamo sempre dal basso Natura natura Cosa sparerà? Ma va Sparerà natura ovviamente Ovviamente se spara natura Non è per il primo elemento che vedete Ma per il secondo Va bene che alla fine sono uguali E ci poco importa comunque a noi Quindi Vedete? Spara comunque Natura E doppio elemento Hanno tutti gli stessi perk Guardate Danni colpo alla testa E danni i bersagli rallentati Danni colpo alla testa E così via Fino al 79 Poi ci sono delle versioni Ulteriormente più avanzate Che come al 93 Come al 114 Che hanno gli stessi perk Ma le vedremo più tardi Prossima Natura fisico Chissà cosa sparerà Sparerà ovviamente Natura Come potete Beh Vedere ragazzi No? Sparerà natura Ma non ci si può fare nulla Cioè alla fine Ci sta anche esteticamente Vedere comunque un'arma Con Perche diverse Cioè con comunque Gli elementi diversi Sopra l'arma Anche se spara Sempre natura Vedete Anche quell'energia Ovviamente Ovviamente il danno Non varia Perché comunque L'elemento che spara È sempre natura Se ad esempio Dovesse sparare Con quella fisico Il danno sarebbe ulteriore Visto che fa 32% Però con gli altri Niente Cioè alla fine Nel natura È l'unico che sparo Vedete Vedete 867 Vabbè in questo caso Avrò preso male L'avversario Però Vedete 867 Ho cambiato Vedete In base a come prendete Il mostro Cambia anche il danno E ovviamente Anche quell'acqua Stessa cosa Cioè Stessa cosa Sempre Natura Anche se guardate Comunque quando sparo Rilascio i colpi Rilascio i colpi D'acqua E vedete Tutta una roba strana Tutte armi strane Sono state proprio moddate Così Ecco Ci stanno Raga Ci stanno Però non sono qui Tutte quante le mie rivolte Infatti raga Passiamo a quella L'87 Che cos'ha quella L'87 È buggata Non può essere così Guardate attentamente Raggio solare Potenza 87 5 stelle Livello 30 No Non può essere così Innanzitutto Livello 30 Con 5 stelle Non dovrebbe Se proprio dovrebbe essere Dovrebbe essere Livello 40 Se fosse l'inizio Del percaggio Fino al 114 La potenza Con il livello Proprio sballatissima Non dovrebbe essere così Stessa cosa Va anche per l'arma di fianco Ha gli stessi parametri Se non che Sono due armi Nettamente diverse E una è pure moddata Che è buggata E allo stesso tempo È anche il fondatore Che vedo ora Perché Avere il bonus in cima Vuol dire che Un'arma è fondatore Non ha C'è una particolarità Solo di quelle armi Trano ovviamente Le rivolte E tutte le altre armi Legendarie Fondatore che si trovano Dentro ai packer Però il resto Che si trovano in lama Hanno tutti i pack Così in cima Comunque Torniamo alla rivolta È tutta buggata Non dovrebbe essere così Ovviamente Spara natura Essendo l'unico elemento Che ha Quest'arma ovviamente È mono elemento E sparerà natura Alla fine Vediamo da queste armi Solo natura Cioè È brutto Però Comunque è giusto Far capire Come sono fatte queste armi Il valore Il valore Mi sono dimenticato di dirvelo Questa come ho detto Sui 100-150 Quella è a 79 Sui 500 di raggio Barra 750 Quella all'87 Sui 500 di raggio Purtroppo È Proprio spopolata Un botto E Ha perso valore Poi La rivolta Fondatore Al 93 Ne abbiamo di due versioni Le prende entrambi Però una La distanza dall'altra Perché sono nettamente diverse Anche se sono entrambe acqua La prima È acqua natura Stessi perk Di quella 79 Vedete Però È solo che È potenziata Pure di perk Full viola Tra in uno leggendario Farà ovviamente più danno Non c'è da dire Vabbè A distanza Il danno È Nettamente minore Però comunque Vedete Cioè Natura spara Anche se è visibile L'acqua E spara comunque Proiettili d'acqua Come quello Vediamo Natura energia Spara proiettili Energia Vedete Oppure Quello fisico Spara proiettili Fisico O addirittura Quello natura Spara proiettili Natura Ma era logica La cosa Vedete C'è Sono tutte così Ora le armi Ragazzi Doppio elemento Natura Acqua Il valore di questa Si avvicina Sui mille di raggio Non di più Tra i 900 Mille di raggio Essendo comunque Una di quelle armi Che È uscita dopo Quindi il valore È Molto Più alto Di quella Principale Di quella Con i perche Di rarità minore Qua diciamo Il discorso inverso Di quello Che ci ho fatto Tempo fa Che i perche Di un'arma Se hanno i perche Di potenza minore Sono molto più rare Come armi Però Dipende anche da quando Esce l'arma Capite E la prossima Questa è strana Diciamo che Non è strana Alla fine è normale Se non che è stata Ricombussolata E voi direte Ma non è Legacy Acqua è normale Guarda Invece no C'è nel senso Sì è normale Perché comunque Quest'arma È nata come Legacy Natura È stata Ricombussolata Purtroppo Non so chi sia stato Il pazzo E Io ho aggiunto L'elemento Acqua Mi è stata scambiata Più di un anno fa L'ho tenuta Non l'ho mai scambiata E Avevo idea di buttarla Essendo comunque Anche un'arma Stranormale Solo che Ci stava Avere Un'arma Di questo genere Avete visto La particolarità Ha Ha fatto in modo Che quando ho sparato I proiettili Siano rimbalzati Nelle altre Il bonus C'era solo Su quella L'87 E su questa Che vi ho appena mostrato Capite I proiettili Rimbalzano su un bersaglio Vicino Ma deve essere vicino Ovviamente Spara acqua questa Però comunque È nata natura Quest'arma Ricordatevi Non è doppio elemento È solo stata Ricombussolata E non gli hanno aggiunto Un perk È una sottospecie Di arma legacy La fine Però Non è originale Acqua Valore di questa Massimo Massimo 200 di raggio Ma passiamo alla prossima Passiamo alla prossima Perché Anzi Le prossime due Sono diciamo Le Le migliori armi Buggate che c'ho Dentro all'inventario Perché purtroppo Quelle Già conosciute Hanno Ce ne sono molto Particolari Ma queste sì Abbiamo due versioni Abbiamo Energia full perk E fuoco full perk Tra i due blu Ragazzi Guardate Stupendo Stupendo E stranamente In questo caso La rivolta fondatore Che è uscita dopo È stata questa qua Con i perk Di rarità minore Guardate i perk Sono identici Se non che Ne ha due full Cioè Ne ha due blu E tre leggendari E qua Tutti leggendari La cosa strana Che vedete Queste due armi Dovrebbe essere uscita Prima questa Per poi aver portato Su questa Invece no È stata divulgata Prima quella full perk E poi Stranamente È uscita al pubblico Pure questa Ma perché è uscita dopo È uscita dopo Chissà perché Quindi originalmente Quest'arma qui È nata come elemento fuoco O addirittura E ha cambiato gli elementi In precedenza Forse esiste anche La versione natura Chi lo sa O acqua O fisico Bisogna attendere Perché queste armi Possono uscire Da un momento all'altro Purtroppo Il mercato come ora Si è fermato Ma si è fermato Già da un botto Quindi procurarsi le armi Ora è una cosa Veramente È una cosa impossibile Però ci proviamo sempre A trovarvi Comunque nuove armi Da mostrare Però ricordatevi Le armi che vi mostriamo Sono le più belle Non è che vi mostro Che ne so Quest'arma legacy Il colpo secco Ma cos'è il colpo secco Io vi mostro Armi particolari Di cui ad esempio Non possono esserci Perche così Non possono avere Degli elementi così Sono baggate così Sono moddate Capite Io vi porto sempre Alta qualità di armi Non schifezza Ricordiamolo E abbiamo Versione fuoco E abbiamo Versione energia La versione energia Rispetto a quella fuoco Vale di meno Questa qua vale Sui 500 di raggio Quella fuoco Raggiunge anche I 750-800 Volentieri anche 1000 Dipende anche dal venditore Che trovate Dipende quanto vi fa Di prezzo Comunque il prezzo All'incirca quello Vedete Non sono moddate Se non solo baggate Infatti sono Potenza 106 Con Guardate 106 livello 54 stelle Scaglia buia Cioè raga E' molto simile A un'arma normale Che scaglia buia 106 E' giusto che sia Su un'arma leggendaria Però così no Ricordatevi Sono molto particolari Ovviamente Se avete qualche arma simile Comunque Cioè tra queste qui Che vi ho mostrato Scrivetelo nei commenti Ci fa sempre comunque piacere Sentire l'opinione Di tutti E ragazzi Siamo giunti alla fine Con le ultime due armi Abbiamo al 114 Doppio elemento Natura e acqua Ragazzi Proprio da dire Hanno preso come Esempio Diciamo La versione Natura e acqua Guardate Sono passati Da quella 79 A quella 93 Per poi uscirne Con quella 114 E forse esiste pure Quella full perk Ma è giusto È giusto Perché comunque Sono delle armi Molto particolari Guardate Spara sempre Spara sempre in natura Avendo anche acqua Ormai la L'avete comunque capito E ci sta La potenza ulteriore Rispetto a quella 93 Che faceva prima 1000 Ora fa 1200 Quindi Di danno Ci sta Valore di questa Sui 1000 1200 Anche volendo Dipende anche dal venditore Potreste trovarla anche a 1500 Che è il prezzo più elevato Che si può trovare Però comunque Come arma Da collezione Ottima Poi averla di tutte le potenze diverse Fa sì che comunque Il deposito Avete tante rarità di armi Ci sta Raga Stranamente La versione Natura fuoco Non è mai stata divulgata Nessuno sa se esiste Nessuno sa Se qualcuno ce l'ha Purtroppo Però appena ce l'avremo Ve lo diremo Ovviamente L'ultima versione Raga Che voglio mostrarvi È quella Comunque Che conosciamo tutti Con cui Tante persone Comunque Avranno sicuramente Combattuto Con quest'arma Senza accorgersene Che era legacy Abbiamo Natura legacy 114 Ovviamente In giro Ce ne sono anche altre Di tante versioni Di potenza inferiore Però quella più rara Ovviamente Quella 114 Valore di questa Sui 250 di raggio Tra i 200 E i 250 Dipende anche Dalla potenza Non vale molto di più Perché comunque È un'arma che si può avere C'è molta gente Che ha il progetto legacy Che non ha portato su E la tenuta Posta per Far sì che l'arma Valga molto di più Molto di più Di quella normale Al 114 Full perk Sapete Sapete che comunque Un'arma moddata Rispetto a un'arma Full perk L'arma full perk Anche se tipo È fondatore Eccetera Ma massimo Vale 10 di raggio In più Ma un'arma full perk A 130 Massimo Come valore 40 di raggio Se è fondatore Sì dai 10 di raggio In più Ma non di più Perché alla fine È comunque un progetto Infinito Potete farne Quante ne volete Capite Stesso meccanismo Anche di quelle legacy Però comunque Hanno un valore Nettamente superiore E ragazzi Queste qua Erano tutte le mie Rivolte fondatore Legacy Io spero che questo video Vi sia piaciuto Veramente Spero tanto Scrivete sotto nei commenti La vostra opinione Su questo video Sulle armi Che vi avevo mostrato E un po' anche Su quello che ho detto Ricordo State a casa Vi prego Vi prego Vi prego Non uscite Così che comunque Tutta la situazione Si risolva più presto Ragazzi Ci vediamo stasera in live Mi raccomando Ore 8 Fino alle ore 22 Non manchiamo Mi raccomando Qui da Righi è tutto Bella raga E grazie Della Visione Ciao a tutti